La leadership nasce solo attraverso il riconoscimento che altri fanno di quella leadership, perché non ci sono pezzi di carta, responsabilità, non sono segretario con i regolamenti, io sono leadership, leader e ho il carisma del leader, se mi viene riconosciuto, basta. Allora il rapporto che noi abbiamo sempre istituito con Marco è stato quello di riconoscergli la leadership. Allora la leadership non vale solo per la domenica, ma anche per il venerdì, perché se il leader sbaglia, tu non puoi il giorno dopo dire, ah perché pezzo di carta, se sei un responsabile, il giorno che sbaglia tu accetti, perché dandogli la leadership riconosci anche la possibilità di sbagliare. Ma in quel momento tu, non avendo tu tentato almeno di cercare la leadership da contro, devi accettarlo e devi essere partecipe. Questo è il senso del nostro rapporto storico con Marco. Ed è sempre stato così. E li dobbiamo questo.